Tiri verso l'esterno in modo tale che poi questa parte qua non hai lo stacco, ok? Col cuoio cappelluto e tantomeno qui, che poi dovrai scomare leggermente e scendi verso il basso. Poi io ti manderò alla fine il report dettagliato, così tutto quello che io ti ho detto te lo trovi anche per iscritto, ok? L'altro metodo è quello di utilizzare le spugnette. Le spugnette trovi anche quelle piccoline. Ah, tipo questa? Esatto, quella lì è la Beauty Blender, che va benissimo. Diciamo che lo svantaggio è un po' simile al pennello grosso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.